Andiamo avanti, andiamo avanti perché sarà la volta adesso invece di Guido Franchi per l'Italia in sella a Lucain, il campione d'Italia juniors assoluto in sella al piccolo Baio 12enne da Lenardo, è il 54esimo del primo giro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grande prova di Guido, grande prova di Lucain, rivedremo anche loro nel barrage, dodicesimo percorso senza errori, quello del giovane Cavaliere Azzurro e di Lucain. Riparte per l'Italia monta Lucain, 31 secondi e 54 da migliorare per andare al comando. Grazie. Grazie. Eh sì, è lui il leader della gara, Guido Franchi 28 e 42, tempo straordinario di Lucain e del giovane Cavaliere Azzurro.